La passione per il tennis incontra la tecnologia. Il progetto Dragonet, nato nel 2016 da un'idea di Alessandro e Giuseppe Spedaliere, continua a stupire. Non siamo davanti ad una semplice macchina sparapalle, ma molto, molto di più. Dragonet è il futuro e i notevoli passi avanti fatti negli ultimi anni non fanno che confermarlo. La possibilità di personalizzare ogni tipo di colpo, cambiare traiettorie, spin e frequenza di lancio funziona con ogni tipo di palla ed è perfetta per i principianti alle prime armi, i ragazzi già avviati al tennis e gli agonisti di tutte le età. Un'idea vincente in grado di ricevere consenso da parte di appassionati addetti a lavori, come il maestro nazionale Alessandro Galli. Diciamo che l'evoluzione del vecchio muro, che prima spopolava nei circoli il vecchio socio, il socio, il bambino, quando aveva dieci minuti andava subito al muro a colpire la palla. Questa è un'evoluzione molto più tecnica e sicuramente positiva, perché dà modo ai bambini o anche agli adulti di lavorare sull'intensità, sulla continuità e quindi è un apparecchio innovativo ma molto propositivo. La giornata trascorsa insieme sui campi al coperto del circolo Eschilo II di Roma è stata l'occasione per assistere all'interessante binomio tra Dragonet e la videoanalisi del professor Raffaele Tataranni, tecnico nazionale e docente universitario. È una giornata assolutamente positiva, il fatto stesso che loro si rivedono in un'azione coordinata con il tecnico che li corregge in parte, che gli dà degli obiettivi e fondamentale per la loro crescita naturalmente. Tutto questo in un ambiente in cui, voglio dire, molto stimolante, soprattutto perché comunque hanno modo di confrontarsi tra di loro. La mia esperienza con Dragonet è assolutamente positiva, perché nel momento in cui loro si confrontano con se stessi hanno la possibilità di andarsi a rivedere e quindi andare a utilizzare uno strumento come quello che è Dragonet, che è ripetitivo nelle azioni, a correggere quello che già hanno visto precedentemente. Quindi è assolutamente una cosa, un'esperienza molto ma molto positiva. Ultimo ma non ultimo il divertimento generato dalla possibilità di svolgere svariati esercizi per un singolo o in gruppo. I bambini sono già entusiasti di Dragonet. Benedetta Rega, 14 anni, 4-5. È molto strano perché con i maestri quando ti tirano la palla è molto più lenta la velocità, quindi è diverso, però è bellissimo. Sono Andrea Stringaro, ho 14 anni e sono classificato 4-1. È la prima volta che mi trovo con Dragonet, mi sta piacendo perché riesco meglio a giocare con la reattività e anche a migliorare i colpi. Il mondo del tennis accoglie Dragonet, la rivoluzione dell'allenamento. Il futuro è adesso!